Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo I Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per la volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta la caia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signor Gesù Cristo. Benedetto sia i Dio il Padre del nostro Signor Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e lì Dio d'ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione, onde noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione, tal che, se siamo afflitti, è per la nostra consolazione e salvezza, e se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi patiamo. E la nostra speranza di voi è ferma, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Poiché, fratelli, non vogliamo che ignorate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremondo aggravati, al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciata la nostra sentenza di morte, affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da ogni gran pericolo di morte, e nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre supplicazioni, affinché, del fervore ottenutici per mezzo di tante persone, grazie e siano rete per noi da molti. Questo, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza, che ci siamo condotti nel mondo, e più che mai verso voi, con santità e sincerità di Dio, non con sapienza carnale, ma con la grazia di Dio, poiché noi non vi scriviamo altro se non quel che leggete, o anche riconoscete, e spero che alla fine riconoscerete, come in parte avete già riconosciuto, che noi siamo il vostro vanto, come anche voi siete il nostro nel giorno del nostro Signore Gesù. E in questa fiducia, per procurarvi un dublice beneficio, io volevo venire prima da voi, e passando da voi, volevo andare in Macedonia, e poi dalla Macedonia venire di nuovo a voi, e da voi esser fatto proseguire per la Giudea, prendendo dunque questa decisione, o io agito con leggerezza, ovvero, le cose che delibero, le delibero io secondo la carne, tacché un momento io dico sì sì, e un altro no no? Or, com'è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, perché il figliolo di Dio, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sì in Lui. Poiché, quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì. Perciò pure per mezzo di Lui si pronuncia l'amen della gloria di Dio, in grazia del vostro ministerio. Or, colui che con voi ci rende fermi in Cristo, e che ci ha unti, è Dio, il quale ci ha pur segnati nel corpo col proprio sigillo, e ci ha data la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Or, io chiamo il Dio a testimone sull'anima mia, che Egli è per risparmiarvi che io non sono venuto a Corinto. Non già che signoreggiamo sulla vostra fede, ma siamo aiutatori della vostra allegrezza, poiché nella fede voi state saldi. Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo II Io avevo dunque me costesso determinato di non venire a voi per attristarvi una seconda volta, perché se io vi contristo, chi sarà dunque colui che mi rallegrerà, se non colui che sarà stato da me contristato? E vi ho scritto a quel modo, onde al mio arrivo io non abbia tristezza da coloro dai quali dovrei avere allegrezza, avendo di voi tutti fiducia che la mia allegrezza è l'allegrezza di tutti voi. Poiché in grande afflizione e in angoscia di cuore vi scrissi con molte lacrime, non già perché foste contristati, ma perché conosceste l'amore che nutro abbondantissimo per voi? Or, se qualcuno ha cagionato tristezza, egli non ha contristato me, ma in parte per non esagerare voi tutti. Basta a quel tale la riprensione inflittagli dalla maggioranza, onde ora al contrario dovresti piuttosto perdonarlo e confortarlo, che talora non abbia rimanere sommerso da sovrerchia tristezza. Perciò vi prego di confermargli l'amor vostro, poiché anche per questo vi ho scritto, per conoscere alla prova, se siete ubbidienti in ogni cosa. Or, a chi voi perdonate quali cose perdono anch'io, poiché anch'io quel che ho perdonato, se ho perdonato qualche cosa, l'ho fatto per amor vostro nel cospetto di Cristo, affinché non siamo sovverchiati da Satana, giacché noi non ignoriamo le sue macchinazioni. Or, essendo venuto a Troas per l'Evangelo di Cristo, ed essendomi aperta una porta nel Signore, non ebbi requie nel mio spirito, perché non vi trovai Tito, mio fratello. Così, accommietatomi da loro, partì per la Macedonia. Ma grazie siano resi a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo, e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. A questi un odore di morte? A morte. A quelli un odore di vita? A vita. E chi è sufficiente a queste cose? Poiché noi non siamo come quei molti che adulterano la parola di Dio. Noi parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Seconda epistola ai Corinzi, capitolo terzo. Cominciamo noi di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? Siete voi la nostra lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifestato che voi siete una lettera di Cristo scritta mediante il nostro ministerio, scritta non con inchiostro, ma con lo spirito dell'idio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne. E una tal confidanza noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che si andi per noi stati capaci di pensare alcunché come venendo da noi, ma la nostra capacità avviene da Dio, che ci ha anche resi capaci d'essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Ora, se il ministero della morte scolpito in lettere su pietre fu circondato di gloria, talché i figlioli d'Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè a motivo della gloria che pur svaniva dal volto di Lui, non sarà il ministero dello spirito circondato di maggior gloria? Se infatti il ministero della condanna fu con gloria molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quel che nel primo fu reso glorioso non fu reso veramente glorioso, quanto lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo, perché se ciò che aveva da sparire fu circondato da gloria, molto più ha da essere glorioso ciò che ha da durare. Avendo dunque una tale speranza, noi usiamo grande franchezza, e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sulla faccia, perché i figlioli d'Israele non fissassero lo sguardo nella fine di ciò che doveva sparire, ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al dì d'oggi, quando fanno la lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane stesso sul cuor loro. Quando però si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Or, il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore è, qui vi è libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nell'istessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore, che è Spirito. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo quarto Perciò, avendo questo ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi non veniamo meno nell'animo, ma abbiamo rinunziato alle cose nascoste e vergognose, non precedendo con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'iddio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Poiché noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù qual Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per l'amore di Gesù, perché l'iddio che disse splenda la luce fra le tenebre, è quel che risplendè nei nostri cuori, affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio, che rifulge dal volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza di Dio è non da noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo alla morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo, poiché noi, che viviamo, siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, onde anche la vita di Gesù sia manifestata nella nostra carne mortale, talché la morte opera in noi, ma la vita in voi. Ma siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, che è, in quella parola della scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, e perciò anche parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù, e ci farà comparire con voi alla Sua presenza, poiché tutte queste cose avvengono per voi, affinché la grazia, essendo abbondata, faccia sì che sovrabbondi per bocca di un gran numero il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo Quinto Noi sappiamo, infatti, che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, Noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi. Poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati, e perciò desideriamo non già d'essere spogliati, ma d'essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati per questo stesso è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ed è perciò che ci studiamo d'essergli grati sia a che abitiamo nel corpo sia a che ne partiamo, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene o male. Sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Noi non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di gloriarvi di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si gloriano di ciò che è apparenza, e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno, lo siamo a gloria di Dio, e se siamo di buon senno, lo siamo per voi. Poiché l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che gli morì per tutti affinché quelli che vivono, non vivono più per loro stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Talché da ora in poi, noi non conosciamo più alcuno secondo la carne, e se anche abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, Egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo sesto. Come collaboratori di Dio, noi vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuta la grazia di Dio in vano, poiché Egli dice, T'ho esaudito nel tempo accettevole, e t'ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Noi non diamo motivo di scandalo in cosa alcuna, onde il ministerio non sia vituperato, ma in ogni cosa ci raccomandiamo come ministri di Dio per una grande costanza, per afflizioni, necessità, angustie, battiture, prigioni e sommosse, fatiche, veglie, digiuni. Per purità, conoscenza, longaminità, benignità, per lo Spirito Santo, per carità non finta. Per la parola di verità, per la potenza di Dio, per le armi di giustizia a destra e a sinistra, in mezzo alla gloria e all'ignominia, in mezzo alla buona e alla cattiva reputazione, tenuti per seduttori eppur veraci, sconosciuti eppur ben conosciuti, moribondi eppur eccoci viventi, castigati eppur non messi a morte, contristati eppur sempre allegri, poveri eppur arricchenti molti, non avendo nulla, eppur possedenti ogni cosa. La nostra bocca vi ha parlato apertamente, o Corinzi, il nostro cuore si è allargato, voi non siete allo stretto in noi, ma è il vostro cuore che si è ristretto. Ora, per renderci il contraccambio, parlo come a figlioli, allargate il cuore anche voi. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi, perché qual comunanza vè egli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre? E quale armonia fra Cristo e Beliar? O che vè di comune fra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il Tempio dell'Idio vivente, come disse dei Dio, io abiterò in mezzo a loro, e camminerò fra loro, e sarò loro Dio, ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro, e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò, e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo Settimo Poiché, dunque, abbiamo queste promesse e diletti, purifichiamoci d'ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel temore di Dio. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo osciuto ad alcuno, non abbiamo sfruttato alcuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande è la franchezza che uso con voi, molto da gloriarmi di voi. Son ripieno di consolazione, io trabocco d'allegrezza in tutta la nostra afflizione, poiché anche dopo che fummo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requi alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, di dentro timori. Ma il Dio che consola gli abbattuti ci consolò con l'avvenuta di Tito, e non soltanto con l'avvenuta di lui, ma anche con la consolazione che lui portava a vostro riguardo. Egli ci ha raccontato la vostra bramosia di noi, il vostro pianto, il vostro zelo per me. Ondio mi sono più che mai rallegrato, poiché, quando anch'io vabbia contristati con la mia epistola, non me ne rincresce, e seppur ne ho provato l'increscimento, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per un breve tempo vi ha contristati, ora mi rallegro, non perché siete stati contristati, ma perché siete stati contristati al ravvedimento, poiché siete stati contristati secondo il Dio, onde non aveste a ricevere alcun danno da noi, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena la salvezza, e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, questo essere stati contristati secondo il Dio, vedete? Quanta premura ha portato in voi? Anzi, quanta giustificazione, quanto sdegno, quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo, qual punizione! In ogni maniera avete dimostrato d'esser puri in quest'affare. Sebbene dunque io v'abbia scritto, non è a motivo di chi ha fatto l'ingiuria, né a motivo di chi l'ha patita, ma perché la premura che avete per noi fosse manifestata presso di voi nel cospetto di Dio. Perciò siamo stati consolati, e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per l'allegrezza di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Che, se mi sono in qualche cosa gloriato di voi con lui, non sono stato confuso, ma come v'abbian detto in ogni cosa la verità, così anche il vostro vanto di voi con Tito è risultato verità, ed egli vi ama più che mai svisceratamente quando si ricorda dell'ubbidienza di voi tutti, e come l'avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro che in ogni cosa posso aver fiducia di voi. Seconda Epistola ai Corinzi Capitolo ottavo Or, fratelli, voglio farvi sapere la grazia da Dio concessa alle chiese di Macedonia. In mezzo alle molte afflizioni con le quali esse sono provate, l'abbondanza della loro allegrezza e la loro profonda povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Poiché io ne rendo testimonianza secondo il poter loro, anzi, al di là del poter loro, hanno dato volenterosi, chiedendoci con molte istanze la grazia di contribuire a questa sovvenzione destinata ai santi, e l'hanno fatto non solo come avevamo sperato, ma prima si sono dati loro stessi al Signore, e poi a noi per la volontà di Dio, talché abbiamo esortato Tito che, come l'ha già cominciata, così porti a compimento fra voi anche quest'opera di carità. Ma siccome voi abbondate in ogni cosa, in fede, in parola, in conoscenza, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete da abbondare anche in quest'opera di carità. Non lo dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altri, premura anche la schiettezza del vostro amore. Perché vi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per amor vostro, onde, mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. E qui vi do un consiglio, il che conviene a voi, i quali fin dall'anno passato avete per i primi cominciato, non solo a fare, ma anche a volere. Portate ora a compimento anche il fare, onde, come ci fu la prontezza di volere, così ci sia anche il compiere secondo i vostri mezzi. Poiché, se c'è la prontezza dell'animo, essa è gradita in ragione di quello che uno ha, e non di quello che non ha. Poiché questo non si fa per recar sollievo ad altri aggravi o a voi, ma per principio di uguaglianza, nelle attuali circostanze, la vostra abbondanza serva a supplire al loro bisogno, onde, la loro abbondanza supplisca altresì al bisogno vostro, affinché ci sia uguaglianza secondo che è scritto. Chi aveva raccolto molto non ne ebbe di sovverchio, e chi aveva raccolto poco non ne ebbe mancanza. Ho ringraziato sia il Dio, che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi, poiché non solo Egli ha accettato la nostra esortazione, ma, mosso da zelo anche maggiore, si è spontaneamente posto in cammino per venire da voi, e assieme a Lui abbiamo mandato questo fratello, la cui lode nella predicazione dell'Evangelo è sparsa per tutte le chiese. Non solo, ma Egli è stato anche eletto nelle chiese a viaggiare con noi per quest'opera di carità da noi amministrata per la gloria del Signore stesso e per dimostrare la prontezza dell'animo vostro. Evitiamo così che qualcuno abbia a biasimarci circa quest'abbondante colletta che è da noi amministrata, perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo nel cospetto del Signore, ma anche nel cospetto degli uomini. E con loro abbiamo mandato quel nostro fratello, del quale spesse volte e in molte cose abbiamo sperimentato lo zelo, e che ora è più zelante che mai per la gran fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, Egli è mio compagno e collaboratore in mezzo a voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono gli inviati delle chiese a gloria di Cristo. Date loro dunque nel cospetto delle chiese, la prova del vostro amore, e mostrate loro che abbiano ragione di gloriarci di voi. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo nono Quanto alla sonvenzione destinata ai Santi, è superfluo che io ve ne scriva, perché conosco la prontezza dell'animo vostro, per la quale mi glorio di voi presso i Macedoni, dicendo che l'Acai è pronta fin dall'anno passato, e il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi. Ma ho mandato i fratelli, onde il nostro gloriarci di voi non riesca vano per questo rispetto, affinché, come dissi, siate pronti, che talora, se venissimo mecode in Macedoni e vi trovassero non preparati, noi, per non dir voi, non avessimo ad essere svergognati per questa nostra fiducia. Perciò ho reputato necessario esortare i fratelli a venire a voi prima di me, e preparare la vostra già promessa liberalità, onde essa sia pronta come atto di liberalità e non d'avarizia. Or questo io dico, chi semina scarsamente, mieterà altresì scarsamente, e chi semina liberalmente, mieterà altresì liberalmente. Dì a ciascuno secondo che ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché il Dio ama un donatore allegro, e Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondato in ogni opera buona, siccome scritto, Egli ha sparso, Egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dimora in eterno. Or colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra, e accrescerà i frutti della vostra giustizia. Sarete così arricchiti in ogni cosa, onde poter esercitare una larga liberalità, la quale produrrà per nostro mezzo rendimento di grazie a Dio, poiché la prestazione di questo servizio sacro non solo supplice ai bisogni dei santi, ma più ancora produce abbondanza di ringraziamenti a Dio, in quanto che la prova pratica fornita da questa sovvenzione li porta a glorificarli Dio per l'ubbidienza con cui professaste il Vangelo di Cristo, e per la liberalità con cui partecipaste ai bisogni loro e di tutti. E con le loro preghiere a provostro essi mostrano d'essere mossi da vivo affetto per voi, a motivo della sovrabbondante grazia di Dio che è sopra voi. Ringraziatosi a Dio del suo dono ineffabile. Seconda Epistola ai Corinzi, Capitolo decimo Io poi, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e l'amitezza di Cristo. Io che quando sono presente fra voi sono umile, ma quando sono assente sono ardito verso voi, vi prego di non obbligarmi quando sarò presente a precedere arditamente con quella sicurezza onde fo conto d'essere audace contro taluni che si stimano come se camminassimo secondo la carne. Perché sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze, poiché distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza che si eleva contro alla conoscenza di Dio, e facciamo prigione ogni pensiero traendolo all'ubbidienza di Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Voi guardate all'apparenza delle cose. Se uno confida dentro di sé d'essere di Cristo, consideri anche questo dentro di sé, che come Egli è di Cristo, così siamo anche noi, poiché quando anche io mi gloriassi un po' di più dell'autorità che il Signore ci ha dato per l'edificazione vostra e non per la vostra rovina, non ne sarei svergognato. Dico questo perché non paia che io cerchi di spaventarvi con le mie lettere. Difatti, dice taluno, ben son le sue lettere gravi e forti, ma la sua presenza personale è debole, e la sua parola è cosa da nulla. Quel tale, tenga questo per certo, che quali siamo a parole per via di lettere, quando siamo assenti, tali saremo anche affatti quando saremo presenti, poiché noi non osiamo annoverarci o paragonarci con certuni che si raccomandano da sé, i quali però, misurandosi alla propria stregua e paragonando sé con sé stessi, sono senza giudizio. Noi invece non ci gloriremo oltre misura, ma entro la misura del campo di attività di cui Dio ci ha segnato i limiti, dandoci di giungere anche fino a voi, poiché non ci estendiamo oltre il dovuto quasi che non fossimo giunti fino a voi, perché fino a voi siamo realmente giunti col Vangelo di Cristo, e non ci gloriamo oltre misura di fatiche altrui, ma nutriamo speranza che, crescendo la fede vostra, noi, senza uscire dai nostri limiti, saremo fra voi ampiamente ingranditi, in guisa da poter evangelizzare anche i paesi che sono al di là del vostro, e da non gloriarci, entrando nel campo altrui, di cose belle e preparate. Ma chi si gloria, si glori nel Signore, poiché non colui che raccomanda sé stesso è approvato, ma colui che il Signore raccomanda. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo undicesimo O quanto desidererei che voi sopportaste da parte mia un po' di follia! Ma pure sopportatemi, poiché io son geloso di voi d'una gelosia di Dio, perché v'ho fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi ben lo sopportate. Ora, io stimo di non essere stato in nulla da meno di cotesti sommi apostoli, che seppur sono rozzo nel parlare, tale non sono nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato fra voi per ogni rispetto e in ogni cosa. Ho io commesso peccato quando, abbassando me stesso perché voi foste innalzati, v'ho annunziato l'Evangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese prendendo da loro uno stipendio per poter servir voi, e quando durante il mio soggiorno fra voi mi trovai nel bisogno, non fui da gravio a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia supplirono al mio bisogno, e in ogni cosa mi sono astenuto e masterrò ancora dall'esservi da gravio. Com'è vero che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi è stato tolto dalle contrade della caia. Perché? Forse perché non vamo, o lo sai Dio, ma quel che fo lo farò ancora per togliere ogni occasione a coloro che desiderano un'occasione, affinché in quello di cui si vantano siano trovati uguali a noi. Poiché cotesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. E non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque gran che esse anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia. La fine loro sarà secondo le loro opere. Lo dico di nuovo. Nessuno mi prenda per pazzo, se no, anche come pazzo accettatemi, onde anch'io possa gloriarmi un poco. Quello che dico quando mi vanto con tanta fiducia, non lo dico secondo il Signore, ma come in pazia. Da che molti si gloriano secondo la carne, anch'io mi glorierò. Difatti voi che siete assennati, li sopportate volentieri i pazzi. Che se uno vi riduce in schiavitù, se uno vi divora, se uno vi prende il vostro, se uno si innalza sopra voi, se uno vi percuote in faccia, voi lo sopportate. Lo dico a nostra vergogna come se noi fossimo stati deboli, eppure in qualunque cosa uno possa essere baldanzoso, parlo da pazzo, sono baldanzoso anch'io. Son dessi ebrei, lo sono anch'io. Son dessi israeliti, lo sono anch'io. Son essi i progeni d'Abramo, lo sono anch'io. Son dessi i ministri di Cristo, parlo come uno fuori di sé. Io lo sono più di loro, più di loro per le fatiche, più di loro per le carcerazioni, assai più di loro per le battiture sofferte. Sono spesso stato in pericolo di morte. Dai giudei cinque volte ho ricevuto quaranta colpi meno uno. Tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto un naufragio, ho passato un giorno e una notte sull'abisso, spesse volte in viaggio, in pericoli sui fiumi, in pericoli da ladroni, in pericoli per parte dei miei connazionali, in pericoli per parte dei gentili, in pericoli in città, in pericoli nei deserti, in pericoli sul mare, in pericoli tra i falsi fratelli, in fatiche e in pene, spesse volte in veglie, nella fame, nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. E, per non parlare d'altro, c'è quel che massale tutti i giorni, l'ansietà per tutte le chiese. Chi è debole che io non sia debole? Chi è scandalizzato che io non arda? Se bisogna gloriarsi, io mi glorierò delle cose che concernono la mia debolezza. L'Idiopadre del nostro Signor Gesù, che è benedetto in eterno, sa che io non mento. A Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie alla città dei damasceni per pigliarmi, e da una finestra fu calato in una cesta, lungo il muro, e scampai dalle sue mani. Seconda Epistola ai Corinzi, capitolo dodicesimo Bisogna gloriarmi? Non è cosa giovevole, ma pure verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo, che quattordici anni fa, se fu col corpo non so. Ne so se fu senza il corpo, e Dio lo sa. Fu rapito fino al terzo cielo, e so che quel tale, se fu col corpo o senza il corpo non so, e Dio lo sa, fu rapito in paradiso, e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Di quel tale io mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò, se non nelle mie debolezze. Che pur volessi gloriarmi, non sarei un pazzo perché direi la verità, ma me ne astengo perché nessuno mi stimi al di là di quel che mi vede essere, ovvero ode da me. E perché io non avesse l'insuperbire a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, un Dio non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angosce per amore di Cristo, perché quando son debole, allora son forte. Son diventato pazzo. Siete voi che mi ci avete costretto, perché io avrei dovuto essere da voi raccomandato, perché in nulla sono stato da meno di cotesti sommi apostoli, benché io non sia nulla. Certo, i segni dell'Apostolato sono manifesti in atto fra voi nella perseveranza a tutta prova, nei miracoli, nei prodigi ed opere potenti. In che siete voi stati da meno delle altre chiese, se non nel fatto che io stesso non vi sono stato da gravio? Perdonatemi questo torto. Ecco questa è la terza volta che son pronto a recarmi da voi, e non vi sarò da gravio, poiché io non cerco i vostri beni, ma voi, perché non sono i figlioli che debbono far tesoro per i genitori, ma i genitori per i figlioli, e io molto volentieri spenderò e sarò spesso per le anime vostre. Se io vamo tanto, devo essere da voi amato o di meno? Ma sia pure così, che io non vi sia da gravio, ma forse da uomo astuto v'ho presi con inganno. Mi sono io approfittato di voi per mezzo di qualcuno di quelli che v'ho mandato? Ho pregato Tito di venire da voi, e ho mandato quell'altro fratello con lui. Tito, si è forse approfittato di voi? Non abbia noi camminato nel medesimo spirito e seguito le medesime orme? Da tempo voi vi immaginate che noi ci difendiamo dinanzi a voi. Egli è nel cospetto di Dio in Cristo che noi parliamo, e tutto questo diletti per la vostra edificazione, poiché io temo, quando verrò, di trovarvi non quali vorrei, ed essere io stesso da voi trovato quale non mi vorreste. Temo che vi siano fra voi contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni, superbie, tumulti, e che al mio arrivo lì Dio mio abbia di nuovo ad umiliarmi dinanzi a voi, ed io abbia a piangere molti di quelli che hanno per lo innanzi peccato, e non si son ravveduti della impurità, della fornicazione e della dissolutezza a cui si erano dati. Corinzi, capitolo tredicesimo Questa è la terza volta che io vengo da voi. Ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. Ho avvertito, quando ero presente fra voi la seconda volta, e avverto ora che sono assente, tanto quelli che hanno peccato per l'innanzi, quanto tutti gli altri, che, se tornerò da voi, non userò indulgenza, giacché cercate la prova che Cristo parla in me. Cristo che verso voi non è debole, ma è potente in voi, poiché Egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio, e anche noi siamo debole in Lui, ma vivremo con Lui per la potenza di Dio, nel nostro procedere verso di voi. Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. Non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi, a meno che proprio siete riprovati. Ma io spero che riconoscete che noi non siamo riprovati. Or noi preghiamo il Dio che non facciate alcun male, non già per apparire noi approvati, ma perché voi facciate quello che è bene, anche se noi abbiamo da passare per i provati. Perché noi non possiamo nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Poiché noi ci rallegriamo quando siamo deboli e voi siete forti, e i nostri voti sono per il vostro perfezionamento. Perciò vi scrivo queste cose mentre sono assente, affinché quando sarò presente io non abbia procedere rigorosamente secondo l'autorità che il Signore mi è data per edificare e non per distruggere. Del resto, fratelli, rallegratevi, procacciate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e l'iddio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi gli un gli altri con un santo bacio. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signor Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.